La Beretti del Catania, allenata da mister Giovanni Pulvirenti, deve ancora digerire la sconfitta contro il Matera di sabato pomeriggio per 1-0. I ragazzi etnei lavorano già con grande determinazione per il ritorno che sancirà definitivamente il nome della squadra che parteciperà alla semifinale e poi finale della cinquantesima edizione del torneo. Una gara che avrebbe meritato miglior fortuna per i rossazzurri, ampiamente sottolineata per gli applausi degli 800, seduti in gradinata, che testimoniano il numeroso seguito della squadra di mister Pulvirenti. Ci è mancato soltanto il gol, ha commentato il tecnico, nulla da rimproverare al gruppo che come sempre ha sputtato sangue in campo per ottenere il risultato. Ovviamente c'è anche un pizzico di rammarico, ma la consapevolezza di andarsela a giocare col coltello tra i denti in basilicata. Due notizie per gli etnei, poiché i biancoazzurri dovranno fare a meno di Donnola, espulso a del grifo per somma di ammunizioni. In gara 2, dunque, Lucani senza pedine importanti, al contrario, gli etnei potranno disporre dell'intero organico.